e non a caso eccoci qua con il 67% la chissà distribuzione l'attacco di Alessia Gennaro il tocco di Fernandez non sfrutta Vais ancora a distribuire verso Blagojevic c'è il muro la palla rimandata di là che cosa va a recuperare Vais ancora con Merlo a distribuire in baga è rovesciato il tocco di Blagojevic Sirresi con Bekis Chiara e Gennari uno scambio lunghissimo Vais ancora di nuovo verso Dioff il suo attacco va giù Sirresi ancora che cosa va a recuperare Bekis in baga è rovesciato la palla ancora in gioco prima di Giulio Vais il punto per Bergamo l'invasione da parte della Dakfarma chiedi Torino questa racconda con Eliano è nata qui Signorin con Letizia Camera tagliacale per Barcellini c'è Giulia Lonardi con Valeria Caracuta servire Paura questa passa coperta da Nicolova buona difesa Letizia Camera la passa dall'altra parte di Galloni non riesce a imprimere potenza prova di nuovo Paura appoggiare questo pallone copertura brava Raffaella Galloni Letizia Camera a cercare Nicolova l'attacco però c'è sempre Cischi molto attenta Margherita Kozua grande rincorso il tocco a muro il tocco di Valeria Caracuta lo scambio a lungo con Brinker attaccare questo diagonale c'è Rossetto l'indifizia Letizia Camera a innescare Cristina Barcellini Marcon ancora che cosa va a prendere Giulia Lonardi alzare per Brinker ancora il muro Giulia Lonardi di nuovo per Valeria Caracuta prova di seconda in tuffo Fiorin Letizia Camera verso Barcellini la palla giù ma c'è sempre Marcon con Giulia Leonardi l'attacco di Kozuka ancora il punto gestito Galloni con Barcellini palla toccata ancora da Valeria Caracuta non sfinisce più in aprea Giulia Lonardi rimanda la palla di là Rossetto con l'indifizia camera la fossa di Galloni il pallone è sbagliato di Raffaella Caroni ma senza più fiato non ce la faceva più un grandissimo il muro sfiorare anche solo questo pallone il servizio di Marcon su Fiorin problemi ci pensano un po' troppo guardate che cosa ripete di là comunque Barcellini fa recuperare il tocco di Bauer con l'indifizia camera cercare il pallonetto di Nicolova la copertura di Garbac Giulia Lonardi per Margherita Kozuka l'attacco il salvataggio ancora una volta di Fiorin con Barcellini che attacca questo pallone con Kozuka che lo recupera con Giulia Lonardi deve alzare in bagel a cercare l'attacco di Brink la difesa ancora di Fiorin prestazione maiuscola con Nicolova con il suo braccio con il sinistro a mettere giù la palla ma c'è Kozuka Garbac a cercare ancora la tedesca il muro ancora una copertura palla rimandata di là però non ha Fribob può attaccare di nuovo con Galloni addosso a Giulia Donardi la stende tenere o giallo il punto numero 17 non vuole sprecarlo anche perché siamo ad un passo problemi di eccezione Mainz Ferretti il primo tempo gestito però da Barcellini con l'edizia camera a cercare Fiorin l'attacco di Fiorin il muro il salvataggio di Nicolova Rossetto per Barcellini che deve spostarsi il salvataggio di Ferretti con Carmen Tullea salta da ferma c'è ancora Barcellini senza fiato l'edizia camera verso Fiorin il muro ancora Fiorin Rossetto che cosa va a prendere Barcellini rimette la palla di là può attaccare adesso Fiacenza con Ferretti a cercare il pallonetto copertura l'edizia camera Barcellini Alsembagher per Fiorin l'attacco di Fiorin il tredicesimo punto che scambio al Palabanca che scambio al Palabanca su Fiorin l'edizia camera l'attacco di Zanotto in lungo linea prova Ferretti a recuperare questo pallone e lo rimanda di là meno su un grande salvataggio di Piacenza le applausi del pubblico l'attacco ancora di Zanotto sulle mani del muro c'è Sansonna Ferretti a distribuire la pasta di Guigi il pallone giù ancora un salvataggio sempre di Fiorin l'altra parte l'attacco di Barcellini copertura di Guigi con Sansonna deve alzare in baghe verso Lucia Bosetti la ricorsa le mani del muro il salvataggio di Rossetto con Zanotto attaccare questo pallone pallone difeso da Lucia Bosetti Ferretti ancora più senza con la pipe di Meners appoggiare un pallonetto il tocco a muro ancora Rossetto non riesce a gestire questo pallone il punto di 97 per Piacenza Martina Guigi verso Barcellini Letizia Camera Cristina Barcellini appoggia questo pallone il tocco a muro il salvataggio da parte di Raffa Galloni la palla di là di Rossetto con Leggeri che preghe di distribuire per Luggeri attacca questo pallone ancora la copertura buono il muro con Carmetulli attacca da seconda linea la palla è profonda ma c'è ancora Fiorin Letizia Camera alzare questo pallone per Barcellini l'attacco il tocco a muro con l'attacco di Fiorin ancora al posto centrale una pipe con la pipe dall'altra parte di Menes la palla durata ancora che salvataggio da parte di Conegliano Carmetulli spinge questo pallone copertura di Raffa Galloni inizia a camera a mescare il nuovo Barcellini l'attacco di Barcellini la difesa di Luciano Bosetti grande difesa grandi attacchi con Luciano Bosetti che prova a spingere questo pallone che cosa va a prendere Fiorin Barcellini alza in baghe non possono attaccare la cassa di Conegliano lo può fare invece Piacenza con il ferrecca di seguire a cercare Carmetulli rimane di qua il quarto tocco il punto per la formazione di Conegliano numero 7 andiamo a prendere Ciao 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 Ciao